buonasera e bentornati alla rubrica culturale hashtag libri liberi oggi vi presento Gesù di Nazareth di Josef Ratzinger è il primo libro pubblicato da Papa Benedetto XVI dopo la sua elezione a pontefice si tratta di un saggio sulla figura di Gesù Cristo nel libro è esaminata la parte della vita di Gesù che inizia con il battesimo e finisce con la trasfigurazione qui seguiranno altri due volumi in questa presentazione non è solo un invito un suggerimento alla lettura ma è anche un sentito ricordo a Papa Benedetto XVI che è di recente scomparso grazie Paola Mazza grazie a tutti